ciao cannello, mi do un bacio a cannello che bello l'agnellino di Anna ma non è di Anna questo, questo è della zia è della zia, non l'ho prestata Anna per giocare e tu quanti giochi hai Anna, Anna fammi vedere tu i giochi guarda lì che Anna ci sta giocando con i giochi di Anna che brava lìga nel cestone dei giochi con Anna e siete belle tutte e due Anna ma che soffocinante, ma che ti sei messo oggi a cattesta che cadi, attesta che cadi attesta che cadi Anna, ciao Ciao!